Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo, buonasera, benvenuta Flavia Perina, giornalista, buonasera Stefano Zurlo, inviato del giornale, buonasera Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano e buonasera Massimo Giannini, direttore della Stampa. Allora, pensioni, reddito di cittadinanza ma anche mobili, caccia e cinghiali nelle città e voucher per chi lavora nelle discoteche. Com'è questa versione finale della prima manovra di Giorgia Meloni? Subito dopo la pubblicità. Allora Marco Travaglio, la manovra economica dopo vari ritardi arriverà domani alla Camera con molte misure solo annunciate, altre annunciate poi cancellate, altre ancora rinforzate come la nuova stretta sul reddito di cittadinanza. Tu hai scritto che la manovra è diventata una discarica, perché? Beh, perché è l'immagine che se ne ha leggendo le cronache di quello che succede. Ogni tanto passa uno e butta lì una porcheria. Dopodiché se se ne accorgono la tolgono, se non se ne accorgono la lasciano. Se volevano metterla lì la lasciano, se non volevano metterla lì si dimenticano di toglierla. Stanotte hanno approvato un emendamento da mezzo miliardo, poi si sono accorti che non aveva la copertura e quindi devono tornare in commissione. Forza Italia ha provato a infilare il condono tombale penale per gli evasori totali, chiamandoli, come li chiamano, reati formali. Cioè uno che non presenta nemmeno la dichiarazione oppure la presenta falsa oppure non fa il versamento sarebbe un reato formale. È una cosa dell'altro mondo, norme sulle intercettazioni, norme sullo sparare i cinghiali e poi mangiarli, ma sarà mica una manovra finanziaria. Questo governo non ha un programma perché nell'ansia di sistemare tutti nelle caselle, cognati, portaborse eccetera, si sono dimenticati di scrivere il programma. Non c'è il programma. Esattamente come al tempo di Draghi, solo che al tempo di Draghi c'era un dittatore, buono naturalmente, figuriamoci, il migliore, che decideva e gli altri obbedivano. Qua non c'è nemmeno il dittatore, c'è semplicemente un gran casino dove ciascuno cerca di infilare qualcosa, ma senza una razio, senza una logica, senza un'idea, un progetto che non sia il progetto inverso a quello di Robin Hood. Robin Hood toglieva i ricchi per dare ai poveri. Questi si ispirano a un altro eroe dei fumetti che si chiamava Superchuk, che era l'antitesi di Robin Hood. Rubava i poveri per dare ai ricchi. Questa è l'unica logica in una manovra finanziaria che per il resto non ha né capo né coda. Sei d'accordo con questo giudizio colorito e molto severo comunque di Marco Travaglio sulla manovra economica? Ricordiamo poi che oggi Giorgia Meloni non si è fatta vedere perché è indisposta e quindi il Consiglio dei Ministri stamattina è stato preseduto da uno dei suoi vice, da Salvini e anche tutta l'agenda è stata ovviamente cancellata. Ha ragione Travaglio perché diciamo Giorgia Meloni diceva di essere pronta a governare in campagna elettorale. Con questa manovra guazzabuglio si ha qualche dubbio, un po' l'assalto solito alla diligenza che vediamo sempre, però anche con alcune novità interessanti. Questa per esempio della caccia ai cinghiali nelle città, l'hai capita? È difficile essere in disaccordo con l'analisi di Marco Travaglio. L'immagine della manovra discarica rende bene l'idea, devo dire, perché effettivamente generalmente la manovra economica, la legge di bilancio per tutte le maggioranze vecchie, nuove, quelle che nascono o sono già nate è il manifesto politico per eccellenza perché in quella si sintetizza in maniera plastica l'idea di società che tu hai in mente, cioè il bacino sociale che vuoi privilegiare in funzione dell'andamento della congiuntura, quello che vuoi penalizzare perché ritieni che possa essere quello che può sostenere meglio in quel momento i sacrifici, la direzione di marcia di un paese. Qui non c'è nessuna di queste cose. Sono confortato, lo dico in via paradossale, ma fino a un certo punto dal decreto cinghiali perché bisogna prendere e gliene do atto volentieri a Giorgia Meloni con la visita che ha fatto l'altro giorno la comunità ebraica agli ebrei. Se sparano ai cinghiali è molto meglio, è molto meglio. Naturalmente è un paradosso perché questo provvedimento inserito in una manovra finanziaria, cioè attenzione, fa veramente impressione e dà l'idea della discarica. Anche perché probabilmente spettatrici e spettatori non sapete di cosa esattamente stiamo parlando, neanche noi per la verità, ma nella manovra vengono autorizzate delle battute di caccia anche con gruppi fatti anche di privati cittadini che possono andare a caccia dei cinghiali qualora arrivassero nelle nostre città e se i controlli sanitari sono corretti e dicono che il cinghiale era sano, si può mangiare anche la carne. Ora, io una cosa così non l'ho mai... È vero, l'emergenza di cinghiali c'è in diverse città, però mi chiedo... Ci sono, c'è la guardia forestale, c'è il cacciatore preso posti, non so. Chiedo due cose, la prima è che consentendolo anche ai privati le città si trasformeranno in delle savane dove tu vedrai gente che esce la mattina invece di prendere la macchina e andare al lavoro, prende il fucile e va a caccia. E tutti gli altri col giubbotto antiproiettile. Ovviamente sì, chi non va a caccia si deve proteggere, questo è chiaro. Ma la seconda domanda più importante, cosa c'entra questo con la manovra economica? Non lo so, io non ho trovato risposta. Allora, completo l'ultima cosa che dico su quello che diceva Travaglio, giustamente su Perciuc non c'è un disegno, l'unico disegno che c'è è vero, e questo è vero oggettivamente, al di là delle misure tentate o di quelle passate, è l'idea, in questo anche la Meloni è coerente perché l'ha detto nel suo discorso per la fiducia alle Camere, privilegiare, lei dice quelli che lavorano, i lavoratori autonomi e soprattutto quelli che tendenzialmente hanno un elevato tasso di infedeltà fiscale e quindi hanno bisogno di rimettere in circolazione il nero. Questa è l'unica direzione di marcia che si vede nella manovra. Per il resto è davvero una discarica, davvero una discarica. Stefano Zurlo, cosa condividi dell'analisi che è stata fatta qui finora? Perché poi ricordiamolo, scusami ti do subito la parola, che due terzi di questa manovra diciamo erano già impegnati dal precedente governo Draghi. Il terzo che è rimasto ha dato l'astura a tanta fantasia, vogliamo metterla così, e tante marce indietro. Insomma, Meloni non esce politicamente tanto bene da questa manovra, Zurlo? Ma non sono d'accordo, è difficile essere in accordo con Travaglio e Giannini, nel senso che è vero che molte risorse erano già impegnate in presidenza. Si era anche detto che questo governo spaccherà, attaccherà l'Europa, prenderà posizioni estremistiche frontali. Questo non è accaduto. Si è fatta una manovra, possiamo parlare di fumetti, andare avanti con i fumetti, evocare anche quelli giapponesi, se volete tutti quelli che vogliamo. Dopodiché la manovra, secondo me, cerca di aiutare i ceti più deboli. Era già in parte impegnato prima, ma prima, dopo, durante, però due terzi, anche di più delle risorse vanno, ad esempio, su quel poco che c'era, perché c'era molto poco, c'era molto poco tempo e c'erano molti pochi soldi. Questo mi sembra il punto di partenza prima di vagare su tutti i vari fumetti di tutto il mondo. E con quello cosa si fa? Si aiutano le pensioni più basse, si cerca di intervenire, come sappiamo, sulle bollette, sul dramma dell'energia, su quella che è una crisi, anzi una serie di crisi, una avvitata dentro l'altra, perché adesso scansato si fa per dire il pericolo Putin, quindi il problema del gas russo, siamo finiti nel problema adesso del Qatar e ci riponiamo lo stesso tema del gas. Allora, su questo si è fatto quello che si poteva onestamente fare. Si poteva fare meglio? Sicuramente. Su questo non c'è dubbio. Ci sono pasticci. Sono stato il primo a dire anche in questa trasmissione che quello del post era un grande pasticcio che sarebbe finito male ed è finito male. Possiamo criticare il post, possiamo criticare i cinghiari, anche se mi meraviglio della vostra meraviglia, perché tutte le manovre di tutti i tempi sono piene di norme che non c'entrano niente, che vengono affastellate. Poi vogliamo parlare della discarica? Ma ha vinto... Ma dai, ma è sempre stato così? Perciò, perdonami, ma Giorgia Meloni rappresenta il partito che in tutti questi anni è stato all'opposizione di tutti gli ultimi governi. Dunque io, se fossi un elettore di Fratelli d'Italia, mi aspetterei una radicale discontinuità, anche rispetto a queste porcherie, che è vero che in qualche misura si facevano. Se però vinci tu e continui a farle, io che ti ho votato a fare... Va bene, allora, tu hai detto la manovra è l'architravo, il manifesto ideologico. Questa manovra era un fronteggiare un'emergenza drammatica, anzi, una serie di emergenze. Io penso, spero, immagino, che il governo sia da dire e c'è qualche accenno, perché in realtà c'è qualche accenno, ma per esempio sul reddito di cittadinanza, per qualcuno nefasto, per altri meno. Ci arriviamo. Ma io penso e immagino che ci sarà, come è stato detto da più parti, una riforma delle pensioni, vedremo in che direzione andrà, ci sarà una riforma se ci sarà del fisco. Il ministro Nordio, come sapete, ha iniziato a parlare di mille... Ah, aspetta, aspetta, che tu stai... No, voglio dire, allora, le questioni ci sono... Ci arriviamo anche alla giustizia. La manovra tampona delle emergenze, pasticcia un po', mescola, come fanno, hanno fatto tutte le manovre, che sono dei grandi zabaioni, dove si mette dentro tutto il contrario di tutto. Adesso trasformare il Parlamento in una congrega di strani soggetti che girano di notte, che infilano e fanno... Ma più che altro, secondo me, non risponde alla realtà, perché la realtà è che si sono tamponate delle falle colossali. Speriamo che si siano state tamponate. Poi ci sono degli interventi mirati... Adesso voglio, chiaro, voglio sentire Flavia Perina, perché, allora, uno, che cosa si sintetizza in e con questa manovra economica? Che direzione di marcia Giorgia Meloni ha voluto dare, se lo chiedeva prima Massimo Giannini. È vero che è una manovra che aiuta i ceti deboli e Giorgia Meloni esce politicamente più forte o più debole da questa manovra? Ma io credo che innanzitutto dalla manovra esce più debole, non so se Giorgia Meloni, ma sicuramente il suo governo e le persone responsabili di tenere il collegamento con i partiti, di gestire il dibattito in Commissione e Bilancio, che hanno combinato grandissimi pasticci. Non credo che sia un caso il fatto che lei ha rinviato di 24 ore il suo intervento televisivo, perché probabilmente neanche lei ha capito il piatto che gli stavano cucinando all'interno della Commissione e Bilancio. Quanto alle categorie di riferimento ai destinatari, al segnale, al messaggio che manda questa manovra, è un messaggio di alcuni contentini a categorie che hanno votato il centrodestra e che, in mancanza di grandi riforme, di riforme di grande profilo, dovevano essere accontentati con qualcosina. La vicenda, le partite IVA sono accontentate da un aumento della soglia della flat tax. I piccoli commercianti, ai tassisti, si è promesso tutto quel casino del post, era collegato a questo, al dare qualcosa a quel mondo lì. I pensionati molto anziani, sui quali alla fine Berlusconi l'ha spuntata, e poi soprattutto il mondo dei ristoratori, dei balneari, degli albergatori, di tutte quelle categorie dell'impresa, che hanno nel mirino il reddito di cittadinanza perché ritengono che sia il vero motivo per cui loro non riescono più ad assumere personale alle condizioni di prima, che molto spesso erano delle condizioni piuttosto, diciamo, spregiudicate, per non dire altro. Il fatto che sia stato eliminato oggi dal testo del reddito di cittadinanza il termine congruo riferito al lavoro che è stato offerto e che tu puoi rifiutare, significa che sparisce anche l'ultimo collegamento, l'ultima possibilità per un lavoratore di dire questo lavoro è pagato troppo poco, sono troppo poche ore, è troppo lontano da casa e quindi non lo accetto. Si crea un vincolo che obbligherà molte persone ad accettare un lavoro qualunque sia e questo fa piacere ad alcune delle categorie che hanno votato in massa Meloni. È un piccolo contentino dove voleva dargli di più magari una grande riforma fiscale o il condono o altro ma è quello che è possibile con i vincoli europei. Quanto al resto la parte gas della manovra è un copia e incolla delle iniziative di Draghi e grazie a Dio diciamo hanno scelto quella strada perché se dovevano discutere anche su quello ci troviamo davvero nei guai. Allora, Marco Travaglio lo diceva adesso Flavia Perina il reddito di cittadinanza allora ricordiamo che è stata impressa un'ulteriore stretta sul reddito perché si passa da 8 a 7 mesi per gli occupabili quindi 7 mesi ancora e poi basta e i cosiddetti occupabili perderanno il sussidio al primo lavoro che viene loro offerto anche se non è ritenuto congruo è scomparsa come ricordava Flavia Perina quell'aggettivo congruo il ministro Lollobrigida di Fratelli d'Italia ha detto che lavoro c'è in tutta Italia basta accettare quei lavori che fanno i migranti per esempio è vero una buona idea questa no? Beh direi viva la sincerità ci ha spiegato esattamente il cosiddetto ministro Lollobrigida che cosa intendono loro per lavoro intendono una cosa perché il cosiddetto ministro Lollobrigida è un ministro no? Beh perché la parola ministro mi sembra eccessivo rispetto a chi dice stupidaggini come quella che hai appena letto che però è rivelatrice perché per loro lavoro è che tu sei uno schiavo vai a chiedere in ginocchio a un padrone di darti qualche lira quello ti mette alla stanga e ti fa raccogliere i pomodori per 20 ore su 24 e poi ti dà 10 euro in nero questo è il loro concetto di lavoro perché noi stiamo tornando verso quella direzione ma di gran carriera perché è una è un cerchio che si chiude se tu non fai il salario minimo legale quindi non obblighi i datori di lavoro a pagare almeno 9 ore allora il tuo lavoratore puoi dargliene anche 3 o 4 addirittura a norma di contratto nazionale perché ci sono alcuni contratti nazionali per esempio nei musei che prevedono paghe da 3-4 euro l'ora questa non è colpa della Meloni questa è colpa di chi l'ha fatti prima però se c'è il reddito di cittadinanza il lavoratore entra in concorrenza con le paghe da fame perché riceve almeno 780 euro al mese se rifiuta quelle paghe da fame se tu adesso gli levi 780 al mese anzi pagandoli per 7 mesi su 12 significa che i 780 diventano 360 370 400 via al mese al mese magari hai famiglie eccetera oppure ti dicono per darti quei 400 euro al mese tu devi non avere mai ricevuto nemmeno un'offerta di lavoro schiavistico non devi avere rifiutato nemmeno un'offerta non congrua cioè una paga da fame a distanze siderali da casa tua che soltanto per spostarti e dormire in un posto al coperto già ti sei mangiato lo stipendio in più reintroducono i voucher che erano stati tolti da gentiloni perché c'era un referendum della CGL per abolirli e dato che sapevano che gli italiani li avrebbero aboliti li avevano tolti loro adesso questi li reintroducono il voucher vuol dire che io ti posso offrire un lavoro anche per un'ora anche per due ore anche per tre ore questo significa che tu teorizzi e istituzionalizzi non il lavoro povero che sarebbe già grave il lavoro schiavistico ed è esattamente quello che è scappato detto oggi al cosiddetto ministro Lollobrigida facciano i lavori che fanno i migranti cioè vadano a raccogliere i pomodori a 10 euro al giorno sotto il sole spaccandosi la schiena per 20 ore prendendo anche le botte ma allora Stefano Zurlo si istituzionalizza così il lavoro schiavistico come dice Marco Travaglio e non era anche vero non è anche vero che il reddito di cittadinanza aveva comunque bisogno di aggiustamenti di maggiore trasparenza su alcuni fronti di alcune strette su altri ma qui vedo che siamo passati dai fumetti adesso siamo alla psicoanalisi del ministro e a cosa gli è sfuggito non gli è sfuggito è chiaro che ci sono lavori sottopagati in Italia lo vediamo tutti ci sono lavori che non vengono retribuiti in modo adeguato questo è verissimo ed è una piaga di questo paese su cui dovrebbero intervenire stare attenti tutti compresi poi tutte le forme di controllo che ci possono e ci devono essere perché il lavoro schiavistico o paraschiavistico che è quello che si riferisce Marco Travaglio dovrebbe essere colpito poi in diverse forme da chi ha gli strumenti per intervenire però mi chiedo e dico forse non è invece che questa cosa un po' all'ingrosso naturalmente perché possiamo vedere da una parte o dall'altra spinge invece molte persone che sono come dire in vilico a riprendere il tema del lavoro che poi è il tema della dignità e bisogna spingere in quella direzione perché siamo arrivati lo sappiamo benissimo i casi sono moltissimi a persone che fanno i calcoli e ti dicono ma io ho preso il reddito poi magari c'è un'integrazione poi c'è un figlio a casa poi c'è questo poi quello non mi conviene lavorare ma non a 300 a 200 a 400 euro dove pure tra l'altro interviene lo stesso il reddito ma a 900 a 1000 a 1100 discorsi che ho sentito con le mie orecchie a Milano oggi ieri in questi giorni fatti da più persone allora forse questo è il tema di fondo dobbiamo spingere il paese verso il lavoro verso la cosiddetta cultura del lavoro con tutti naturalmente i ritardi le difficoltà le cadute di cui abbiamo parlato o dobbiamo tenere un sussidio a vita per uno strumento che sul lavoro non ha assolutamente funzionato perché era strato perché era fatto male perché era anche ipocrita per certi aspetti e infatti l'ipocrisia non quella del cosiddetto come dice Travaglio ministro l'obrigida ma dall'altra parte è venuta fuori dicendo ma voi adesso affamate i poveri ma non era nato questo strumento per far fuori la povertà e per dare lavoro si è perso per strada il lavoro e adesso si dice il contrario esatto e beh ma rimangono i poveri diventano più poveri i poveri vanno aiutati i poveri tolgo la parola perché può sembrare cosa i non lavoratori che è il vero tema vanno aiutati ad entrare nel circuito del lavoro come? Si chiamano disoccupati e quindi apriamo tutta la discussione scusa? Cosa? Si chiamano disoccupati capisco che adesso il neologismo è occupabile e si chiamano disoccupati si va bene ci sono va bene perché non c'è il lavoro non perché non hanno voglia di lavorare bisogna creare le condizioni per il lavoro una questione è dire ok intanto che le crei cosa fai li mandi sotto i ponti a quelli no non li mandi sotto i ponti ma neanche secondo me ha senso dire ti do un sussidio a vita perché questo stava diventando è tuttora anche se poi l'impostazione ma quale a vita? ma si perché hai pensato così se ha la seconda rifiuto del lavoro congruo glielo leva ma quale a vita? ma dove c'è scritto che ha vita? meglio stare a casa che prendere un lavoro pagato non quanto tu reputi quanto tu reputi è mille e certo per te mille euro al mese è una paga congrua l'hai appena detto mille euro al mese per te è una paga congrua l'hai detto no anche sul congruo ci saranno mille discussioni poi interverrà la magistratura interverrà interverranno in tanti allora ammesso che si vada avanti su questa strada il punto decisivo è è un paese che vuole spingere il lavoro o che vuole spingere il lavoro? questo è la domanda di fondo io vorrei però ricordare che ci sono studi ci sono dati a cominciare da quelli dell'istat che hanno certificato che certificano che il reddito di cittadinanza ha salvato dalla povertà assoluta molti italiani e questi diciamo sono dati Massimo Giannini è un modo per spingere il paese per spingere gli italiani verso una cultura del lavoro che oggi non c'è e si può pensare che gli italiani accetteranno i lavori che oggi vengono svolti dai migranti? più che la cultura del lavoro io direi la subcultura del lavoro intanto i dati e scindiamo il sussidio dalle politiche attive del lavoro il sussidio lo hai ricordato tu in questo momento dati istat banca d'italia censis ha consentito a un milione e duecentomila di italiani di non scivolare nella povertà assoluta quindi il sussidio non solo ha funzionato ma è stato essenziale per limitare i danni della doppia crisi covid e poi recessione innescata dalla guerra mettiamo da parte il sussidio parliamo delle politiche attive del lavoro perché dico subcultura torno al ragionamento iniziale che facevamo sulla manovra il senso la direzione di marcia le parole che ha detto Lollo Brigida a giustificazione dell'intervento di modifica sul lavoro congruo sottintendono una visione quasi premoderna del paese no? cioè tutto quello che manca nella manovra economica è esattamente questo pensiamo noi che il problema dell'Italia e del nostro mercato del lavoro sia convincere i ragazzi italiani che ancora non lavorano ad andare a raccogliere i pomodori e in questo modo noi abbiamo risolto il problema dell'occupazione no noi abbiamo un gigantesco problema di occupazione di livello medio alto prima di tutto oltre che di livello basso di livello medio alto allora chiedo che idea di economia ha questo governo noi siamo ancora al premiracolo economico dove dobbiamo mandare i giovani che non lavorano a zappare i campi ecco perché poi anche dire facciano i lavori che non fanno i migranti questa roba io la sento dire al bar no? in qualche caso è anche vero in qualche caso è anche vero ma in qualche caso intanto io anche qui stiamo ai numeri no? abbiamo visto dati alla mano scusa Zurlo abbiamo visto dati alla mano che scusami finisco abbiamo visto dati alla mano che le persone che possono essere recuperate teoricamente al lavoro poi si tratta di capire che lavoro qualunque lavoro bene anche quello che fanno i migranti ok sono 660 mila a spanne quindi se noi crediamo che adesso sistemato in questo modo il reddito di cittadinanza abbiamo risolto i problemi dell'occupazione italiana stiamo dicendo una gigantesca bugia agli italiani e di più insisto e finisco vorrei capire qual è l'idea di paese che hanno in testa mettono nel ministero della pubblica istruzione e del merito e poi dicono che un ragazzo laureato che non ha niente da fare si deve prendere un lavoro anche non congruo e va a pulire i bagni lavoro nobilissimo ma come stanno insieme queste due cose vorrei sapere come stanno insieme queste due cose e quindi torno al discorso iniziale che idea di paese c'è qui dietro fatemelo capire Flavia Perina allora che idea di paese c'è questa naturalmente è una domanda che si pone vedendo entrando un po' nei dettagli di questa manovra economica perché da una parte ritroviamo il motto di Giorgia Meloni che ha detto più volte che non bisogna disturbare chi vuole fare chi vuole agire le imprese eccetera eccetera dall'altra però della destra sociale vediamo non molto in questa manovra e comunque che tipo di paese si sta si sta costruendo visto che sempre Giorgia Meloni ha detto io ho tutto il tempo necessario davanti perché sono qui per restare per restare i cinque anni della legislatura ma io direi che tutto quello che abbiamo ascoltato fino adesso compresa quest'ultima infelice frase sull'andassero a fare i lavori di migranti appartiene ad una ad una cosa in cui la destra è una grande specialista cioè il battibecco politico quotidiano il battibecco da talk show da esibizione televisiva da social che le ha portato molto consenso perché su queste idee è stato costruito il consenso della destra ma che non ha mai corrisposto a una visione o a una direzione o a propositi riformisti precisi codificati e anche in questa circostanza quello che loro avevano promesso è la riforma del reddito di cittadinanza non la sospensione o il blocco in sette mesi pensavamo tutti che ce l'avessero nel cassetto perché la parola pronti ha sormontato la loro campagna elettorale e tutti i loro manifesti quindi sapevano che sarebbero andati a governare si poteva immaginare che questa riforma fosse nel cassetto invece non c'è e dirò di più due cose la prima io penso che fra sette mesi verrà fatta una proroga e tutto questo dibattito finirà in cenere e la destra non c'ha nessuna intenzione di passare a mio giudizio qualche mese in balia della protesta sociale delle piazze piene di gente che urla perché gli è stato levato un sussidio talvolta indispensabile quindi credo che rinvieranno tutto ai futuribili destini di una riforma la seconda cosa è di merito questa è una destra patriottica da cui era legittimo aspettarsi ad esempio qualcosa per far tornare in patria i moltissimi italiani qualificati e anche meno qualificati i camerieri gli infermieri i geni del computer che a migliaia vanno all'estero ma cosa cosa gli andiamo a raccontare a questi ragazzi tornate in Italia a raccogliere i pomodori perché alla fine questo questo dimostra quanto appunto tutto questo per loro appartenga alla categoria delle battute e manchi un approfondimento serio anche rispetto ai valori che coltivano che dicono di coltivare che esibiscono appunto il patriottismo e l'amore per la propria terra certo non si difende diciamo l'orgoglio anche della nazione proponendo ai ragazzi italiani di appunto andare a fare lavori non solo sottopagati ma anche lavori che elevano dignità ai loro percorsi di studi alla fatica che hanno fatto i loro genitori per farli studiare e per farli crescere rapidissimi Marco Travaglio Massimo Giandini Zurlo quindi che mesi aspettano Giorgia Meloni e insieme a lei naturalmente gli italiani è finita la pacchia si era detto è finita la pacchia per quelli che rispettano la legge io quando sentivo dire che questi sono fascisti dicevo vabbè ci avrà almeno un merito il fatto che sono fascisti vorranno che si rispettino le leggi dello Stato o della nazione manco per sogno l'anarchia più totale l'illegalitarismo programmatico condoni sulle cartelle condoni tombali per l'evasione totale via le intercettazioni via i soldi alla polizia penitenziaria meno carcere meno troian meno punizioni per i ladri di Stato cash libero con tanti a strafottere ma è una cosa dell'altro mondo la pacchia è finita per quelli che rispettano la legge per le vittime dei reati basta sentir parlare Nordio io immagino in certi circuiti criminali dove si riuniscono per vedere porta a porta di ieri sera ma avranno stappato lo champagne nel sentir dire che praticamente sarà impossibile beccarli perché non li si intercetta più oppure si fanno fare le intercettazioni le intercettazioni telefoniche dai servizi segreti così nessuno sa chi viene intercettato per quale reato che cosa è venuto fuori poi alla fine ahumma ahumma le distruggono o almeno dicono di distruggerle e se nel frattempo ci è capitato qualche avversario politico fanno un bel dossier e nasce un ricatto perché oggi dato che siamo il paese più garantista del mondo che tutte le intercettazioni comprese quelle dei servizi devono passare davanti al magistrato devono essere poi depositate agli avvocati e quindi c'è un controllo massimo non va più bene le facciamo fare ahumma ahumma dalle polizie che dipendono dai ministeri e questa è una cosa allucinante se pensiamo che questi non hanno mai governato e hanno questo revancismo di dire finalmente andiamo noi a Palazzo Chigi ma chi è stato una vita all'opposizione dovrebbe avere paura della polizia che fa le intercettazioni per ordine dei politici perché è quello che hanno temuto loro per 40 anni per questo dovrebbero essere veramente garantisti nei confronti di chi dissente non di chi momentaneamente è al potere e invece fanno esattamente il contrario altro che fascisti questi sono è una corruzione berlusconiana che ha completamente annientato tutte le specificità che aveva la Meloni in quei anni ho completato il giro Travaglio no io devo beh certo e infatti chi ha cercato di infilare il condone abbiamo fatto un tardissimo una battuta per forza Italia posso parlare un secondo anch'io una battuta è che hai fatto i fumetti tu perché allora l'Italia è un campo di pomodori interminare dove tutti sono schiavizzati i criminali stappano grandi bottiglie di champagne perché Nordio finalmente dopo vent'anni in cui si intercetta di tutto e si pubblica di tutto e non ricominciamo il solito discorso cerca di mettere poi chissà si metteranno io ho qualche dubbio come ha detto giustamente Flavia Perina sull'attuazione del programma ma ce l'ho quello è il vero dubbio che ho io che si passi dalle chiacchiere ai fatti ma quella è un'altra questione che si metta un po' di argine a un sistema che non funziona che è sbilanciato che non ha paragoni in Europa che non ha paragoni in Europa che tu ne pensi tranne che in Belgio eh va bene è quello tranne che in Belgio tranne che in Belgio sì ti ricordo che in Belgio ti ricordo che in Belgio non si sapeva l'identità attraverso le intercettazioni le microspie eccetera però scusa però però voglio dire è un fu questo non è una realtà questo è un fumetto che stai dipingendo no 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 qui non facciamo fumetti no perché parlare di criminalità quando la prima cosa che hanno detto è che si terranno le intercettazioni per criminali per mafiosi e terroristi e si metterà ti faccio tacere ti farei tacere con lo slogan berlusconiano dei prossimi mesi meno Troian e qui mi fermo ci siamo capiti ci siamo capiti è una battuta ma almeno la finiamo là ci siamo capiti punto di Paolo Pagliaro abbassare i microfoni quest'anno il lavoro nero e altre forme di economia non osservata compresa quella criminale varranno in tutto 360 miliardi di euro 22 miliardi in più dell'anno scorso e rappresenteranno il 10,4% del prodotto interno lordo questo significa per lo Stato perdite rilevanti e per le imprese concorrenza sleale il tutto e qui c'è l'altra notizia accade in Germania ne parla oggi il quotidiano economico Handelsblatt spiegando che il lavoro nero dilaga anche per via dell'inflazione e in particolare dell'aumento del costo dell'energia che spinge milioni di persone verso l'indigenza il 27% dei lavoratori dipendenti dice che con lo stipendio non arriva più a fine mese alcuni economisti interpellati dal giornale sostengono che l'economia sommersa protegge molte persone dalla povertà e dunque non merita lo stigma che la circonda si fa notare anche che oltre l'80% del denaro guadagnato in nero viene speso quasi subito e ciò contribuisce a stabilizzare l'economia lo Stato viene inoltre parzialmente compensato per le perdite fiscali grazie a questi consumi extra e alle relative entrate IVA Friedrich Schneider docente austriaco specializzato in economia non osservata fornisce al giornale anche alcune stime relative ai danni provocati dalla corruzione che l'anno scorso in Germania è costata 234 miliardi 13 in più che nel 2020 altro che Italian Job siamo in chiusura grazie Flavia Perina grazie Marco Travaglio grazie Stefano Zurlo grazie Massimo Giannini grazie spettatrici e spettatori restate con noi perché adesso c'è Andrea Purgatori con il suo Atlantide che ci farà tornare al Qatargate state con noi e noi ci vediamo come sempre domani 8 e mezzo arrivederci grazie a tutti